Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare il primo libro della saga di Darkwing nella sua forma libro-game, perché ovviamente Darkwing è una serie di libri fantasy, una saga fantasy che ora poi vi vado a far vedere nel corso del video. E questo è il primo libro-game ambientato appunto nell'ambientazione di Darkwing. Ha una sua precisa collocazione anche temporale, quindi lo potete leggere dopo i romanzi che vi farò vedere, tanto poi vi darò direttamente il sito, vi darò la lista per come le dovete andare a leggere in ordine cronologico, ed è un'opera di Davide Cencini che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia e recensione del primo libro-game appunto della saga di Darkwing, La Caccia, e il manuale di gioco che è completamente opzionale, ma secondo me, nemmeno poi tanto, che trasforma questo libro-game in un vero e proprio GDR, anche perché questo manualetto qui comprende, va sulle 120 pagine, quindi lo trasforma in tutto e per tutto in un gioco di ruolo con Dungeon Master, alla fin fine che vi narra una storia. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. La Caccia, come dicevo, è il primo libro-game in ambientazione di Darkwing, un romanzo di 430 pagine, ed è un'ambientazione epic fantasy alla fin fine, dai toni anche decisamente cupi, che ci vede nei panni di Vivern, che è il nome d'arte che viene dato agli agenti speciali inviati dal Talashar quando appunto hanno abbandonato il loro nome. Per farvi l'esempio più classico, ma anche perché Davide Cencini ci ho scambiato qualche parola anche via mail, ovviamente, ragazzi, quando si va a trattare libri game, ma in qualsiasi ambientazione, anche ambientazione post-apocalittica, o anche horror, si va sempre a citare il maestro, si va a prendere sempre qualche punto di riferimento, che è Joe Dever, con la saga di Lupo Solitario, che ragazzi, per me è qualcosa di... forse è bella perché non solo è bella, scritta bene e tutto quanto, ma ti rimanda proprio al sapore degli anni 80-90, e si respirano in quelle pagine, ovviamente. Quando apri quei libri sembra di tornare 30-40 anni indietro. ed è quello che è riuscito a fare, poi alla valutazione vedo in fondo, anche Davide Cencini, a cui appunto si è ispirato molto, perché alla fin fine questi agenti segreti, questi guerrieri scelti, molto addestrati, avventurieri del Tal, lasciar ricordano un po' i maestri Ramas, o comunque i guerrieri Ramas di Lupo Solitario, che se non erro nella versione nuova successiva l'hanno chiamati Cavalieri Kai, qualcosa del genere, a me non piace, per me sono i Ramas. E appunto, calandovi nei panni di questo Wyvern, nome in codice, ovviamente il nome del personaggio lo sceglierete voi, ma avete abbandonato i vostri usi e costumi di un tempo, quindi il vostro nome è Wyvern, e dovrete andare a creare la scheda del personaggio, come in tutti i libri game, però in questa è decisamente, decisamente più articolata. Il bello è che, ora poi ve lo faccio vedere, il libri game si divide in due tipi di gioco. Gioco A, quello semplice, ovvero con regole semplificate, scheda semplificata e tutto, e B, che per poterlo affrontare avete bisogno di questo manoletto qui, che potete comprare a parte, che dovrebbe venire, no, c'è scritto qui, 12 euro. E questo serve per giocarlo completamente trasformato con altre regole in un vero e proprio CDR. Mi viene l'esempio più classico nel manuale di base, quando dovete fare uno scontro, magari il gioco vi dice, dovete tirare questi dadi qui, magari un D6, due D6 a seconda dell'arma, e sommarci qualcosa, che ne so, un D6 più due, a seconda dell'equipaggiamento che avete, che avete equipaggiato, quindi viene fuori un D6 più due, quant'è la difesa del nemico? Ho fatto, boh, non lo so, 5. La difesa del nemico, 1, quindi sottrago la difesa al mio attacco, rimane 4, e quelli sono i punti feriti che avete fatto. Poi ve li fa il mostro, poi glieli fate voi, poi glieli fa il mostro, poi è sempre come alla lupo solitaria, infine un attacco per 1. Nel regolamento ampliato, no, diventa proprio un GDR, ovvero c'è proprio il tiro per colpire, e soprattutto, molto spesso, c'è una difficoltà da eguagliare per riuscire nella prova, o tiri contrapposti nel manuale, questo qui avanzato. I tiri contrapposti sono quando io voglio provare, che ne so, a scappare da un lupo, e bisognerà vedere se riesco a scappare, non puoi fare un tiro costante, una difficoltà costante, e giustamente qui ci viene incontro questo regolamento, perché se scappo da un lupo, è la mia velocità e la mia agilità contro quella del lupo, quindi se il lupo fa un check migliore del mio, mi prende, per quanto io sto provando magari a buttarmi giù da un dilupo, ma guanta alla fine e mi tira indietro, cioè la maniera di fallire la prova è molto, molto, o di riuscirci è molto, molto più articolata. C'è tutto quanto un altro discorso su tutti i poteri, che qui sono tutti elencati, che potete avere, e la scheda è molto più ampliata, tanto ora ve lo faccio vedere, a parte rispetto quella base del manuale. Quindi questo gioco è bello, perché quando arrivate in ogni capitolo, quando arrivate al fine del versetto, del paragrafetto, c'è sempre, che ne so, un fulmine, e il fulmine sta a identificare una prova che potete superare con le regole standard del gioco, semplificate, o se no c'è sempre una pagina con delle scritte stilizzate, che invece vi fa capire che quello è un altro tipo di prova se voi invece state giocando con queste regole qui. Non potete fare il miscuglione, o lo giocate tutto in un modo, o in un altro, e comunque la storia va avanti. Ed è veramente, veramente fatto bene, molto interessante, e vi faccio vedere, non c'è da fanboxing nulla, vi faccio vedere un po' com'è dentro. Questo è il libro game, tra l'altro, disegnato da paura, i disegni, ma non voglio esagerare, sono quelli più belli che ho mai visto nel libro game, mi garbano veramente da morì, si vede che c'è stato un lavoro dietro, roba disumana, e questo qui siete voi, appunto, Darkwing la caccia, che è il primo libro game, il primo libro gioco, il numero uno, e questo qui siete voi, siete Wyvern. Scheda del personaggio, ragazzi ve la fa vedere veloce, perché mi dispiacerebbe da morì, spoilerarvelo. Sì, lo potete giocare anche due o tre volte, però la storia, poi bene o male, sarà sempre quella. Comunque, scheda del personaggio, vedete c'è la razza che io ho scelto, il radiante, tipo la scuola, il potere, quello che volete, io ci ho messo Aria, che era quello che mi interessava più di tutti, il rango, ovviamente, sono rango guerriero, non leggete l'uno, l'ho sbagliato io accanto, dovrei già essere di partenza rango due o tre, la difesa, che è il valore che dovete scalare dall'attacco del nemico, la pratica, che sono i punti esperienza, ogni volta che arrivate a dieci, passate di livello, la salute, che in questo gioco, la salute è strana, voi potete arrivare a zero punti ferita, e ovviamente siete KO, siete morti praticamente, in questa avventura, almeno che l'avventura non vi dica altro, il paragrafetto che state seguendo, però, quelle che contano sono le ferite critiche, perché ogni dieci ferite normali, subite, nello stesso turno, quindi tutte quante con un colpo, voi, anche ovviamente da più nemici, sia chiaro, quindi ogni dieci ferite, voi prendete una ferita critica, a fine del combattimento, tutte le ferite le recuperate, tutte, se ne avete subite 29, ne recuperate 29, però quelle critiche rimangono, e le ferite critiche, abbassano il valore di tre, dei punti ferita massimali, quindi fino a che non le curate, e per curare ferite critiche, non basta nemmeno a volte pozioni di cure, e cose del genere, ma servono medic kit, serve dormire, riposare, o andare dentro un ospedale, poi ovviamente ci sono, c'è l'immunità, che vi dovete scegliere, io ho scelto l'elettricità, ci sono tutti quanti i vostri poteri, e i talenti, i quattro talenti, che dovete scegliere all'inizio, uno dato dalla razza, e altri tre che potete scegliere, qui non vi faccio vedere nulla, scusate lo salto, perché ci sono segnate un po' troppe cose, queste, cose varie, e ripeto non ve lo voglio, spoilerà, però l'unica cosa qui accanto, ci sono tutti quanti gli achievement, vedete questo qui, tipo soccorritore, 1,5, poi salvato un'altra persona, 2,5, e quando arrivate a 5,5, il gioco in fondo al manuale, vi dice cosa avete guadagnato, quindi anche se arrivate a 5,5, lasciatelo così, lì per lì, non vi serve a nient'altro, che sono le imprese, vedete, mi ha fatto direttamente la dedica, Davide Cencini sopra, che lo ringrazio veramente da morire, e acquista molto di valore, la mappa di gioco, e Rita mi ha fatto questo disegno qui, tra l'altro c'ha una mano spettacolare, tipo di disegno bellissimo, che è un personaggio, che troverete appunto all'interno del racconto, veramente spettacolare il disegno, e ragazzi poi alla fin fine, è il classico libro game, come vedete qua giù, con la scelta delle razze, le razze sono le più classiche, ma non, cioè al 50%, elfi, nani, umani, c'è qualcosa che ricordano un po' i kender, anche gli halfling e cose del genere, e razze un pochino più particolari, tipo ho scelto questa qui, che mi ricordava molto da vicino, ramma mezzo, perché sono una razza molto strana, che di giorno o di notte, quello scegliete voi, hanno tipo un sole tatuato, una voglia a forma di sole sulla testa, che di notte diventa una luna, e a seconda del giorno e della notte, cambiano anche sesso, che ne so, di giorno sono uomini, e di notte sono donne, e la cosa bella, l'ho fatto perché c'è un punto del racconto, che c'è da farsi delle risate, veramente, molto molto interessante, e mi è piaciuta, poi ovviamente ragazzi, non c'è una razza più forte, è una razza più debole, tra l'altro guardate i disegni, vabbè, pazzesco, lascio sta, bellissimo, voto qui 20 su 10, e sono spiegate molto bene, poi ci sono i talenti, la tabella che vi ho detto all'inizio, uno ve lo dà sempre il, la razza che scegliete, e poi ne avete altri tre di partenza, e poi gli elementi che dovete scegliere, insomma il manuale, è bello definito, e poi, come vedete qua giù, ci sono tante cose da ricordare, direttamente nei paragrafetti, perché ad esempio questo simbolino qui, è un achievement, un'impresa, quando c'è questo segnale, quindi voi dovete tornare indietro, e sognare, che ne so, pace in terra, più 1,2, quando arriverete a 2,2, l'avrete finito, e qua giù invece c'è la cosa, che vi dicevo inizialmente all'inizio del video, vedete c'è il paragrafetto, poi c'è il fulmine, che vuol dire, se stai giocando con le regole principali del gioco, questa è la cosa che devi fare, se stai giocando con le regole ampliate del gioco, quindi questo manuale qui, questa è l'altra strada che puoi prendere, cosa cambia, di solito quando qui vi dice la difficoltà è 4, voi tirate un dado da 6, puro, senza modificatori, a meno che non abbiate qualche talento, e dovete fare 4 o più, invece nelle regole ampliate, sicuramente la prova avrà tutta un'altra calibrazione, anche perché non avete caratteristiche, nel gioco base, non ci sono le caratteristiche, non esistono, nella versione avanzata, invece ci sono e come, ci vengono incontro magari la forza, l'agilità ed altre cose, quindi magari, laddove vi diceva, supera un 4 o più, con un dado da 6, nel regolamento avanzato, vi fa fare proprio un test di velocità, o altre cose, e, è bello corposo, è bello piano di disegni, ad esempio, quando c'è questa chiavettina qui, vuol dire che, avete sbloccato qualcosa da assegnare, che non è un'impresa, è qualcosa che semplicemente, dovete andare a assegnare sul manuale, per ricordarvi che ne so, io ho trovato questa persona, io ho parlato con questo individuo, così quando lo ritroverete nel corso dell'avventura, l'avrete già incontrata, e quindi la storia cambierà, e si va avanti, per molte pagine, tanto i paragrafetti, sono mezzo e mezzo, alcuni sono giusti come lunghezza, alcuni un po' troppo corti, però quello che conta, è che sono scritti bene, e molto 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 discrittivi, quindi per quello, non dovete aver paura, che sia una cosa superficiale ragazzi, è un'opera di paura, e vedete anche qua giù, quando si vanno a fare i combattimenti, che si vanno a tirare le caratteristiche, anche qui ci fa sempre presente, la versione base, del mostro che andiamo ad affrontare, e la versione ampliata, la versione ampliata con più caratteristiche, la versione base come voi, con un tiro per colpire e ferire, punti ferita, e un tiro di difesa, tra l'altro molto anche lo stile Migarba, proprio diviso, scritto in un riquadro di un altro colore, per identificarlo molto meglio, e ragazzi veramente l'opera, io forse non voglio togliere niente a nessuno, poi il voto ve lo do alla fine, però per come veramente è presentato e tutto, io penso che questo Davide Cincini, onestamente, poi glielo chiederò, c'è uscito pazzo, perché meglio di così non si può fare, è veramente mostruosa, e poi non lo voglio aprire troppo, perché io sono fanatico di queste cose, oppure sempre che si rompano, come una volta mi è rimasto un mano, il manuale di girza, ci pianga ancora, la versione stesa, non solo abbiamo bisogno del dado da sé, come la versione principale, ma anche del dado da 8, e del dado da 4, e ci sono le regole ampliate, la prima parte, le prime 10 pagine, è il regolamento normale che trovate anche di là, quindi nessuna eccezione o cosa strana, vedete ci sono le razze, tra l'altro gli stessi disegni che abbiamo trovato prima, però andando avanti ci vengono in conto le armi, e quindi c'è tutto quanto l'equipaggiamento, le tabelle, le armature con i modificatori, perché un'armatura leggera non ti dà grande difesa, ma ti consente una grande mobilità, un'armatura media, inizia a darti qualche malus, un'armatura completa, a meno che tu non abbia il talento, ti rallenta da morire, soprattutto se ci caschi in acqua, i talenti che sono molto più ampliati, l'inventario è molto più ampliato, e soprattutto cambiano proprio le regole, a livello di radiant, del radiante, quindi del potenziale, mettiamola così, magico, arcano che avete, ma soprattutto cambiano le regole, proprio del gioco, ve l'ho detto, andare a fare una prova, non ti chiedi più, fai 4 o più su un dado da 6, ma ti dice che ne so, superano la difficoltà di 15-20, con la tua abilità, velocità o cose del genere, quindi è molto più ampliato, e poi da, qui vedete c'è il combattimento, finalmente, ah, poi abbiamo attacchi istantanei, azioni istantanee, normale e complete, in un turno potete fare, un'istantanea, tipo un piccolo movimento, e una normale, un attacco, oppure potete farne una sola completa, ovviamente se ne fate, non potete fare una normale, una completa, la completa è solo questa, se no potete farne una normale, e una istantanea, non potete fare, né due istantanei, né due normali, una e una, oppure una di queste qui, andando avanti, ci sono tutti quanti i domini, tutti quanti i poteri, ampliati, con prerequisiti, quindi laddove prima, nella versione normale, ok, sblocco un nuovo potere, radiant, qui no, qui se non hai tutti quanti i requisiti, e l'addestramento giusto, non li puoi assolutamente sbloccare, ragazzi, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, vedete, ah, la scheda è molto, guardate qua, com'è fatta, rispetto a quella base, che vi ho fatto vedere prima, è molto molto più ampliata, anche perché c'è da iniziare a segnare caratteristiche e quant'altro, e se vi posso dare un consiglio spensierato, se ne dovete prendere, magari aspettate un'offerta, prendeteli insieme, veramente vi ravviva il gioco da morire. Le opere sono tutte quante elencate in cronologia in questo ordine, quindi se volete leggere, ci sono anche dei fumetti, addirittura ha fatto un lavoro disumano, ci sono anche dei fumetti, potete leggere direttamente romanzi, fumetti, e poi vi dico anche dove si va a incastrare questo libro game, che se non era già uscito anche il secondo, appunto in ordine cronologico con i romanzi. Voi dovrete trovare il tizio, chi ha portato via la spada dei sette occhi, lo dovete ritrovare perché lui è stato completamente corrotto dal lego dell'arma, quindi se quella spada finisse nelle mani sbagliate, avrebbe il potere veramente non solo di risvegliare divinità, ma anche forse di distruggere il mondo. Quindi voi siete inviati dal Talashal per ritrovare questa persona, arrestarlo o ucciderlo, quello spetta a voi cosa deciderete di fare, ma soprattutto riportarvi alla spada. Ringrazio veramente di cuore, tanto ve l'ho fatto vedere precedentemente, per la dedica che mi è stata fatta all'interno appunto del libro game, grazie Davide, e soprattutto Erita Micozzi per il bellissimo disegno che mi ci ha fatta all'interno, quindi grazie, grazie veramente di cuore onoratissimo. Ora, arrivando alle conclusioni, questa è la volta più strana che do un voto, vi dico la verità, perché la testa mi dice una cosa, e il cuore me ne dice un'altra, sono diviso, vi dico la verità. Allora, se dovessi dare un voto per la complessità dell'opera, tutto quello che racchiude, e quant'altro, perché ragazzi, questo non è un libro game, ve lo assicuro, non è, è una partita a D&D con Dungeon Master, ma ancora di più, è un videogioco, ci sono gli achievement, ve l'ho fatto vedere, ci sono gli achievement da sbloccare, cioè, che ne so, combattente 1 di 5, poi magari ammazza un altro mostro, combattente 2 di 5, e quando arrivi in fondo, in fondo al manuale, ti dice tutti quanti questi achievement, messi insieme, vi danno dei bonus, per l'avventura, e che verranno dopo, magari vi regalano un equipaggiamento, cioè, Davide Cincini ha creato, un mondo virtuale immenso, cioè, è completissima quest'opera, ragazzi, addirittura, la fama che avete, o comunque, come siete visti, dalle persone, se vi amano, vi odiano, oppure vi stanno semplicemente neutrali, né cado né freddo, addirittura il manuale vi verrà a dire, quel tizio lì l'hai già rincontrato prima, che magari sulla nota c'è scritto, sì, l'hai già rincontrato, segui un'altra strada, quel tizio lì, ti adora o ti odia, oppure ti è indifferente, a seconda della risposta, ti dà tre strade differenti, quindi, avete veramente un mondo nelle mani, è narrato molto bene, scritto da paura, non si perde in frivolezze, del tipo quest principale, 190 quest secondarie, ma quando le fa, non siamo su The Witcher 3, che poi mi dimentico la primaria, quindi, è fatto, ragazzi, da paura, quindi, come voto, se dovessi dargli un voto, all'opera complessiva, le dovrei dare il massimo, ovviamente, le dovrei dare 10 su 10, perché io sfido veramente, a trovare qualcosa, fatto meglio di questo qui, però, per me, personalmente, le do un 8 su 10, quindi, abbassare i due voti, perché, ho trovato una cosa, molto fastidiosa, però, se è chiaro ragazzi, quello che non piace a me, sono cose soggettive, potrebbe piacere tantissimo ad altri, quindi, questa cosa qui, che vi dico io, che non è piaciuta a me, non vi fate influenzare, perché magari, per qualcun altro, potrebbe essere bellissima, ok, che in un libro game, si deve andare troppo avanti, ok, subito due punti ferita, tolgo dalla scheda, ok, ho trovato un oggetto, oppure perso un oggetto, quindi, è tutto un aggiornare e togliere, ragazzi, qui, in un capitolo, due, cioè, in un capitolo, scusate, in un paragraffetto, di sette righe, due volte dovete tornare alla scheda, e ogni volta, segnali, infatti vedete, ce l'ho qui, colorosa, segnali, 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 perché qui non dovete segnare l'equipaggiamento e punti ferita, come in tutti i libri game, dovete segnare le quest principali, quest secondarie, poi vi dà quest principale, che è sempre soltanto una, compiuta, la dovete andare a cancellare, aggiornatela con quella nuova, che ne so, salva la principessa, cavolo, salvata la principessa, adesso valla a riportare al re, quindi devi cambiare, salva la principessa, riportala al re, poi le quest secondarie, poi gli achievement, cioè, anche gli achievement, ogni volta che usate un potere mentale, ogni volta che usate un potere, appunto, radiant, e qualsiasi altra cosa, è tutto una giornata, ragazzi, io ho letto 10 pagine, ho dovuto queste 10 pagine, metterle in pausa, 8 volte, per tornare al manuale, c'era sempre, torna, segnalibro, torna, segnalibro, che poi ho scritto sul coso, però magari fatevi una scheda, così evitate come me di insozzarle, scrivete lì, però torna lì, torna lì, la lettura viene interrotta, veramente, non scherzo, su 10 paragrafi, 28 volte, che secondo me è troppo, non è un male, ragazzi, non è un male, però a me mi ha smorzato, io voglio leggere, lo voglio iniziare a leggere, tempo 2-3 ore, 4 ore, insomma, tutto il pomeriggio ve le ci vogliono, lo voglio finire, qui invece è tutto fermato, vai, aggiorni, togli, sottrai, dividi, ritogli, ed è una cosa che mi ha interrotto la lettura troppe volte, e una cosa che secondo me non deve fare un libro game, ma non deve fare proprio un romanzo in generale, è staccarti dalla lettura, te mi devi lasciare lì, te mi devi far andare sulla scheda, solo quando ce n'è veramente bisogno, non mi devi staccare dalla pagina, e devo andare avanti a leggere una dopo l'altra, però come opera ragazzi, è completissima veramente, io penso che meglio di questo non trovate niente, primo link in descrizione dove acquistarlo, vi lascio anche ovviamente altri social di Davide Cencini, ragazzi andateci a dare un occhio, perché ripeto, spero di non aver sbagliato, ma mi sembra di no, sul sito ho visto che c'è già il secondo, o dovrebbe uscire a breve, andate a vedere, perché non soltanto è spettacolare, ma la saga di Darkwing, ho letto che è veramente molto bella, quindi andate a vedere magari, poi è bello, da una parte te la leggi, da una parte te la giochi, come era appunto anche il lupo solitario, quindi 8 su 10 meritatissimo, io ringrazio Rita, ringrazio Davide per avermi offerto questa copia per la recensione, il manuale di gioco versione avanzata, che se vi posso dare un consiglio prendetelo insieme, magari se trovate anche un'offerta, perché ve lo trasforma in D&D, voi state facendo, non è più un libro game, è proprio un gioco di ruolo, e poi tutti quanti i social a scendere, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao ragazzi, alla prossima!